Voi che? Voi, non ci fai cadendo? E' visto, sono venuto in dago, Marta Zio. Sangue, ebbe sangue, ma sono fatto insiste. E tu? Contravvenzione, ammunizione. Sono nenne 9, una lanterna accista si aglietta in cielo a mia sua cammarone. L'ocetto non faccio il muro di Gesù Cristo in croce pittata per la fazione. Sai, sai, una quattro o cinque carcerata. E questa è nata notte, una ricetta. Tu vedi chi lo dice che non ci ha creato. E che a questa mano si è spugliata. Tra sette, una seconda, faccio afferriata su nenne, spattata la porta e si è niente. E ora? Ora? E non perite, non ci cucchiamo, tenete su. Poco, la verità. Non vi cucchiate. No, figlio. E figliammo, vi faccio compagnia, ma sto giocare. E' un carceriere? E' un amico. E si parlammo, si non ci sentono. E che fa? Che non ci può fare? Basta, poi ogni chi sa mongio, chiamammo, moccammo una lira. E si andava. C'è stata la moneta. Senza complimentare che ci assi sentite, ma c'ha sapete, parlando con rispetto a chi mi sente, so zazzuso, eranato, so proibito. E fossero eranato solamente. Ssss, sta passando un peppo. Ombè, sentite, c'è stata un'amica mia. Mbè, mo' è trasuta. Mbè, suona non tena. E a caggia fa. Se permettete, rumana vestuta. Viglia. Cadda viglia, sa da cucca. L'amica mo' è trasuta, mo' è venuta. Ma che mamma, che a chi vuoi fare un guida? A dove si crede sta? Che è di tenuta, non posso fare particolarità. C'è stessa una liretta, come è rita. Aggiudite, c'è stessa una liretta. Ma però io, vatti giù qua, parli giù zitto. E' da carta. Io non so sorda, e aspetta, passale piano piano. Aspetta, che fai? Ma qualche sorda in terra e tu mi guai. Per un minuto dentro il cammarone non si è papattiaio. Stracca, manata, chi stacca, chi l'ha la coppa o paglione, stiava nella naricina e carcerata. Due non favano già stute buone, e mia salata addurmuta o scedata, ma arrivò alla 12 anni. Occhio guaglione vuotava attorno, l'occhio afflussionato. E il cammarone si infugava. Occhiste fatteva, la cazzatella che affilava, a fome che aveva rossocato. L'ombra era una faccia di Gesù Cristo trammava, lenta, e l'aria si abbambava, e l'aveva tutto questo uomo ne è sticciato. Dunque, dicette, così Giovanna Cietta ha sottato che ora mi fa metà un coppano scannati e la pironietta. Dunque, ha giù fatto uai. E non c'è che fa. La nonna non trovava più la ricetta, pateva la nonna. E io vi mostro un cacca. Se fotte, ancora mi diceva un bietto che non vi erano per di fare libertà. Fao calandomma, tratta buona gente. Quanti più meglio li tratta e più la fai, più non hai catevole nel trarimento. Riebba da figlia, malattia, so' guai, ma non pognano. E corna so' pognentato, cortellata sì, ma corna mai. Ma che volete rì, dicette d'ora. E non arriva a capì. Ronna Andriana. Leva a sto donna, fammi a sto favore, chiamma la nonna. Schifosa puttana. L'ha già acceso. Ho un giù? Sì, per l'onore. Andriana acceso. E quando? Anna Sammana. Mi scornacchiava con la mia signora e l'ha già acceso. Sì, con la mano. Sì, e te? E perché dici questo? Io? Io non mi scosto. E perché ti sei fatto un buon d'oscano? Io? No. Fate giocare. Sto qua, ma a costa. Tu siete, eh? Siete. Un ingannato. Anna Anna. E sai con chi? Con chi? Ma non lo sai più, eh? St'amico non lo sai. Chi? Chi? Sì, tu. Sì. L'ho accettato in un cortile. Ho scanna saputare, s'abboccaio. Tore caretta. E che lato? Ho fu in guola. E' un anno. E' un anno che aveva trovato la ricetta. Mamma, la sanità. Chi sta che fanno? Strillai in un carcerato. E' su sette mie solietti. E guardaio. E' un giorno in casa fa infamità. Tre botto, oretto, tutti e tre bietti. E sai sai. Poi. Pareva un cadavere. Cos'è anche la riuscita dalla mano, dentro la mano che... e scurreva. Chiamata un peppo. C'è questa amica che... me voleva bene. E l'ha già riuscita. Mi è costata una lira. Abba una lira.